Allora, correggo i compiti di casa, perché poi gli esercizi che saranno nella verifica saranno simili a questi. Allora, il primo esercizio era un'equazione irrazionale con un radicanto in cui bisognava svolgere i calcoli, però, prima di fare la condizione di esistenza. Quindi ho radice di, ho già moltiplicato, quindi diventerà x alla seconda meno 5x più 4 e poi isola la radice, quindi porto di là il 3x, quindi 3 meno 3x. Adesso sì, condizioni di esistenza, condizioni di esistenza, x alla seconda meno 5x più 4 maggiore o uguale a 0 è una disequazione di secondo grado per cui passo all'uguale. Trinomio particolare prodotto 4 e somma meno 5, quindi x meno 4 per x meno 1 uguale a 0, quindi ho x uguale a 4, x uguale a 1, disegno la parabola che è concava verso l'alto, 1 e 4, voglio positivo e quindi la condizione di esistenza è x minore o uguale a 1 oppure x maggiore o uguale a 4. A questo punto elevo alla seconda entrambi i membri, così sparisce la radice qua e qui devo elevare alla seconda e mi accorgo che comunque dovrò fare la verifica perché il secondo membro non so se è positivo. Quindi togliamo la radice a primo membro, x alla seconda meno 5x più 4 uguale, allora 9 più 9x alla seconda meno 3 per 3, 9 per 2, 18, meno 18x. E' un'equazione di secondo grado, porto a primo membro, quindi ho meno 8x alla seconda, porto anche il 18 più 13x e poi meno 5 uguale a 0. Cambio i segni, 8x alla seconda meno 13x più 5 uguale a 0, x1 a 2 uguale, 13 più o meno 169 meno 160 perché verrebbe fuori 8x 5 uguale a 40x 4 uguale a 160. Tutto fratto 16, quindi ho 13 più o meno la radice di 9 che è 3 fratto 16, una soluzione è 1, l'altra soluzione è 10 sedicesimi che è uguale a 5 ottavi. Allora controlliamo la condizione di esistenza, 1 è accettabile e 5 ottavi no perché non è maggiore di 4, quindi non accettabile, però è minore di 1 e quindi no, in realtà è accettabile perché è minore di 1. Quindi devo, per la condizione di esistenza, devo far la verifica. Allora verifica, verifica, Incominciamo con x uguale a 1. x uguale a 1 la mettiamo dentro nella equazione dove abbiamo fatti i calcoli, quindi 1 meno 5 più 4 uguale a 3 meno 3. E quindi viene la radice di 0 che è 0, 0 uguale a 0, ok, e quindi x uguale a 1 è accettabile. x uguale a 5 ottavi, x uguale a 5 ottavi avrei, Allora x alla seconda quindi 25 sessanta quattresimi meno 25 ottavi più 4 che deve essere uguale a 3 meno 3 per 5 ottavi. 5 ottavi, quindi vediamo un attimo, radice quadrata 64, 25 meno 64 diviso 8 fa 8, 25 per 8, 8 per 5 è 40, 8 per 2 è 16, più qua, 200, più 64 per 4, 4 per 4 è 16, 256, 256, allora, e quindi qua da quest'altra parte viene 15 ottavi, meno 15 ottavi. Quindi a secondo membro facciamo subito perché viene 24 meno 15, che fa 9, quindi a secondo membro ho 9 ottavi. A primo membro invece, vediamo un attimo, 256 più 25 fa 281, meno 200 fa radice di 81 sessanta quattresimi, che è proprio uguale a 9 ottavi. E quindi è verificata anche la seconda, e quindi è accettabile anche il secondo valore. Allora, facciamo la 62, poi farò un altro video sulla circonferenza, e faccio due video separati perché sennò diventano troppo pesante a caricarlo. Quindi x più radice di x alla seconda più 3x uguale a 2. Allora, anche qui, ho il, da fare la condizione di esistenza, condizione di esistenza, ho x alla seconda più 3x maggiore uguale a 0, quindi viene x per x più 3 uguale a 0, sono passata l'equazione, x uguale a 0, x uguale a meno 3. Parabola concava sempre verso l'altro, ho meno 3 e 0, e quindi valori esterni ancora, perché voglio positivo, quindi x minore uguale di meno 3, ho x maggiore uguale a 0. A questo punto, prima di elevare la seconda, porto l'x al secondo membro, quindi ho radice di x alla seconda più 3x uguale a 2 meno x, elevo entrambi i membri e mi accorgo che anche qui devo fare la verifica, quindi avrò x alla seconda più 3x uguale a 4 più x alla seconda meno 4x. x alla seconda e x alla seconda vanno via, rimane 7x uguale a 4, dividendo per 7, x uguale a 4 settimi. Allora, 4 settimi è accettabile perché è maggiore di 0, maggiore. Devo, siccome però, ho elevato la seconda, devo fare la verifica, quindi verifica, radice quadrata di 16 49esimi più 3x4, quindi 12 settimi, e dall'altra parte ho 2 meno 4 settimi. denominatore comune 49, 16 più 12x7, 7x2, 14, 84, uguale a 10 settimi. quindi 16 più 84 fa 100, fratto 49 sotto radice, che è uguale proprio a 10 settimi, quindi 10 settimi uguale a 10 settimi, accettabile e quindi, cioè verificata e quindi accettabile. quella che ho è sotto ISIS,